buongiorno buona gente questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di etv per la nostra vostra rassegna stampa ben trovate e ben trovati o ben ritrovati ritrovati a seconda della fruizione del programma che parte dalle 6 e 45 tutte le mattine fino alle 9 30 poi la riproposizione in coppa pranzo delle 13 30 e 14 30 per concludere questa cavalcata di giornali riviste informazioni messaggi e consigli per gli acquisti delle 18 con il buongiorno e buonasera e il nostro collega amico alessandro tizzani questo è il nostro sito che abbiamo già sbirciato allora andiamo subito al tema principale c'è una grande grande partecipazione il programma ed è grazie a margareta francesca francesco e quartina che possiamo subito salutare curioso in pochi minuti una francesca e poi una francesco che ci han salutato sono tante le foto che stanno arrivando in merito alla perturbazione che dovrebbe arrivare o è già arrivata in alcune zone per esempio la zona di camerino la zona di fabriano sulle marche ci tornerò stamattina dal molo tempo perturbato ciao mauri da marco ex ambulanziere tempo perturbato ma per la verità fino adesso non mi pare questo dovrebbe essere il fare uno dei fari della costa marchigiana se ti dico civita nova azzardo sbaglio no forse per la zona del pesarese ecco dove siamo fammi sapere il luogo più bello del mondo la baia di porto nuovo parco del conero buongiorno anche se il cielo oggi è nuvoloso e minaccioso beh io direi che meglio di così non si può meglio che partire da questa foto è impossibile grazie davvero la differenza il vero valore aggiunto della nostra informazione siete voi come da tradizione allora cominciamo o ricominciamo con una prima raffica di notizie un paio per ogni provincia anche grazie al lavoro delle colleghe dei colleghi dei siti internet marchigiani allora ascoli tenzone aurea ecco tutti i ragazzi ascolani che scendono in piazza per la serie a tutti gli ascolani in gara nel weekend una fotonews eccola che conferma tenzone aura 21 team per il titolo tricolore ad ascoli si gioca la serie e il titolo di miglior sbandieratore d'italia poi un'altra segnalazione legata a tal vacchia arma contro la crisi idrica acqua alla vallata e il potabilizzatore anche per evitare come purtroppo è successo anche quest'estate di dover fare turni di approvvigionamento idrico la cronaca ci porta in provincia di pesaro dopo la provincia di ascoli muore a 60 anni e dona la vita aveva scritto le sue volontà e allora ecco l'espianto multi organo al san salvatore è un gesto che racconta la grande umanità dei marchigiani a un certo punto quello che abbiamo in dono in dote non ci serve più e quindi mettersi nelle condizioni anche di evitare che siano i nostri cari a dover scegliere in un momento nel quale già sentono la nostra mancanza è un grande gesto di civiltà quindi se non l'avete fatto tanto non è che che porta sfiga o altro parliamo di un gesto di grande civiltà e nobiltà d'animo fate la dichiarazione per disponibilità a donare gli organi quando la fase terrena della nostra avventura dovesse terminare nuovo waterfront a proposito invece di pesaro ok la pedonalizzazione è l'oggetto della contesa un aviale tutto nuovo a pesaro sì sia la riqualificazione della passeggiata a ponente ma attenzione a pedonalizzare prima servono le infrastrutture anche perché le macchine da qualche parte dovranno andare no dal pesarese al fermano e ci tengo a ricordarvi questa notizia purtroppo perché c'è stata un'ulteriore situazione di truffa con il modo più becero cioè sfruttando la credibilità il buon nome delle forze dell'ordine che salutiamo una viglia catavera da truffatori da truffatrici fingersi forze dell'ordine fingersi poliziotti carabinieri guardia di finanza succede a monte giorgio portano via ad un'anziana 5 mila euro attenzione 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 alle amiche agli amici che ci seguono giustamente c'è anche chi dice e cosa fai non apri capisco è davvero difficile non aprire la porta a una persona che si presenti come carabinieri come polizia come guardia di finanza bisogna cercare di essere in questo momento e il poliziotto se è vero il carabiniere se è vero vi capisce cercare di capire e di far capire che non si accettano truffo inganni lei come si chiama lei è un poliziotto è un carabiniere è una pubblico ufficiale mi deve dire il nome qual è il suo distretto vedrete che tenendo sempre la porta chiusa queste due tre domande dovrebbero dissuadere il truffatore la truffatrice a portare avanti la truffa capirà che siete gente in gamba ancora notizia stavolta dalla provincia di macerata proprio macerata protagonista sottopasso di via roma avanti tutta con gli scavi ora si vede la galleria un'opera infrastrutturale dicevo che anche ai tempi ai miei tempi universitari era molto attesa dalla provincia di ancona lavori del g7 ad ancona è corsa contro il tempo il traguardo è per fine settembre dove si andrà ad eseguire delle opere manutentive o di riqualificazione per accogliere i sette grandi della terra le sette delegazioni dei paesi più importanti del mondo che saranno ospitati proprio ad ancona per parlare di salute per esempio a portonovo è stata eseguita la sistemazione della strada e dei parcheggi c'è ancora da effettuare al mandracchio la manutenzione degli asfalti e sull'asse nord sud il rattoppo delle buche sul fatto che sull'asse nord sud siano ancora da rattopare le buche abbiamo quotidiana memoria da parte del pubblico di quelle parti che sono anche le mie parti vittoria belvederesi carissima un abbraccio a te grazie per essere stata con noi anche ieri sera bella serata ieri grazie allo staff di caffè teatro grazie a te cara vittoria qualche foto ce l'ho già e grazie al sognatore social sandro moriconi fotografo ufficiale di caffè teatro carla buongiorno lucia del negro buongiorno micaela marinacci buongiorno queste previsioni ci fanno intendere sarà un buongiorno e noi lo andiamo a verificare abbiamo già dato intanto una consolazione non magra nel senso che non finisce oggi l'estate oggi domani dovrebbe piovere ma il weekend sarà bello tranne che sul pesarese la domenica tardo pomeriggio dalle 15 circa potrebbe cominciare a sgocciolare per il resto sabato bello su tutte le marche domenica bello con l'asterisco solo sul pesarese per quanto riguarda invece la giornata di oggi quando arrivano le piogge così uno che dovesse avere delle faccende da sbrigare lo sa allora per esempio provincia di fermo la pioggia arriverà a partire dalle ore 15 già subito con temporali e temporali molto forti pur in un contesto di temperature alte perché pioverà ma resteranno i 30 gradi questo per il fermano dalle 15 dunque la pioggia in provincia di ascoli per esempio stesso esercizio a che ora arriva la pioggia saranno piogge forti non a carattere temporalesco ma solo nella fascia tra le 15 e le 16 questo per darvi un'infarinata di notizie al volo abbiamo pronte ora le edizioni locali dei giornali pronti a ripartire con i titoli delle prime pagine poi come sempre approfondiremo sfoglieremo insieme andremo alle pagine interne i comuni più piccoli del nostro territorio per noi restano protagonisti cominciamo con la provincia di ancona con la città metropolitana che vuol dire unire le forze ancona falconara sirolo numana creare un'area nella quale tanti progetti possano essere condivisi anche per fare massa critica lo conferma dopo la proposta l'assist dice il giornale del sindaco di ancona silvetti mettiamoci insieme anche bocchini che dice un ancona sotto i 100 mila abitanti è fuori dai radar quindi l'unione fa la forza lo dicevano anche i moschettieri del re ancona casa del made in italy in un momento nel quale tra l'altro il made in italy è in grande difficoltà in autunno arriveranno gli uffici un'altra istituzione che sarà ospitata nel capoluogo regionale mi pare dalla foto nel palazzo delle poste del centro di fronte alla sede del comune di ancona errore negli incarichi e questa ve l'ho già raccontata ma merita di essere approfondita spiegata e rispiegata perché fa cascare un po le braccia per quelle donne uomini della settore istruzione che dobbiamo sempre ringraziare e che restano come coloro che sono sospesi come direbbe dante alighieri e cioè sono precari di anno in anno aspettano una conferma parziale eccetera cosa è successo errore negli incarichi insegnanti beffati via duemila contratti duemila persone che dicevano pensavano di poter tirare un sospiro di sollievo per quest'anno c'ho il pezzo di carta invece tutto da rifare purtroppo brutta storia da jesi accerchiato dai bulli che gli intimano tira fuori i soldi viene rapinato a soli 12 anni non è il primo episodio purtroppo di baby gang a jesi la catenina rubata scatena il parapiglia ha coltellato un giovane mi chiedono anche dove si è verificato l'episodio della bambina colpita da una fucile soft air ci arriveremo ci arriveremo perché intanto siamo a completare il corriere per la provincia di ancona e anche qui purtroppo ci sono notizie non belle pistola puntata alla ex con me o con nessuno la disperata richiesta di aiuto da parte di lei mi vuole uccidere terrore in vallesina scatta l'arresto da parte dei carabinieri questo per lanconetano andiamo velocemente verso ascoli e san benedetto passando per i vostri saluti le foto bellissime che ci dedicate grazie caro giuseppe guardate se questo non è amore per la natura per la vita ditemi voi micaela buongiorno anche a te un abbraccio e grazie per questa bella foto è buono già solo a guardarlo questo ciambellone e ti è anche riuscito col buco e non tutte le ciambelle riescono col buco questa questa sì anche sante il più di amare partecipa a buongiorno tv grazie all'amica mirella e qui il sole cerca sì di farsi largo cerca di specchiarsi sul mare ma quasi in vano oramai perché si sta per coprire di nuvoli per il momento però mi pare che a sante il più di amare la situazione sia piacevole per il momento ed ecco invece i giornali con ascoli e san benedetto via po addio case a rischio è il progetto di riqualificazione con le abitazioni che saranno demolite e costruite altrove prima le forti piogge poi il sisma avevano messo in grave pericolo i residenti ho anche una foto di questo quartiere eccolo qua cambia volto lo skyline di via po case demolite costruite altrove il tema principale quello della sicurezza abbiamo già accennato a proposito di iniziative ad osimo arriva il 18 enrico ruggeri per ascoli c'è l'appuntamento invece con la serie a degli sbandieratori tenzone aurea 21 team per conquistare il titolo a tricolore molto molto coreografiche queste rappresentazioni invaso di talvacchia parte da qui la lotta contro la crisi idrica la speranza di non dover più razionare l'acqua minacce violenze alla ristoratore finisce agli arresti domiciliari poi ancora paura in casa aggredisce la madre e picchia il fratello infine le caditoie otturate protestano i residenti fioccano a san benedetto le segnalazioni per timore poi di allagamenti la minoranza chiede la diffida per piccena ambiente bisogna prepararsi sta per finire l'estate stanno per tornare le piogge in maniera più insistente allora facciamoci trovare pronti da san benedetto questo rappello vanno pulite le caditoie non dopo che c'è stato il temporale ma prima prevenire è meglio che curare diceva una fortunata reclama buongiorno maurizio e viva la vita ecco uno dei momenti più belli per i nonni e beh i nonni che portano a spasso i piccini i nonni sono genitori con le caramelle in tasca sono le nostre stelle il nostro tempo le nostre risorse di affetto e spesso anche economiche se non ci fossero le nonne i nonni di oggi tante famiglie sarebbero davvero in difficoltà buongiorno anna che ci segue da jesi eppure a jesi è arrivato il nuvolone che non è un nuvolone fantoziano come mi scrivono alcuni erano previste queste precipitazioni poco fa accennavo al fatto che in zona per esempio ascoli in zona macerata le piogge arriveranno a partire dal pomeriggio per la provincia di ancona quando inizierà a piovere in realtà un pochettino prima verso le 9 già temporali e poi dalle 14 alle 16 per la giornata di domani già che ci siamo ci lasciamo ingolosire una perturbazione che dovrebbe essere abbastanza rapida domani è solo attorno alle 18 un po di piogge ma nulla più era pronta l'edizione del corriere per il fermano io prima di questo però voglio dedicarvi un servizio che fa riferimento ad una grande tradizione del saltarello folk festival da petriolo 6 8 settembre sapete che ci teniamo a lanciarvi iniziative modi di vivere al meglio la propria regione con le tradizioni e non solo ad ascoli gli sbandieratori a petriolo il saltarello abbiamo l'ambizione di diventare un centro a livello direi regionale e provinciale delle tradizioni e canti e balli e poesia popolari con questa sana ambizione il comune di petriolo si appresta a vivere il weekend della seconda edizione del saltarello folk festival pitrio mia una rassegna ricca di iniziative con stage di canti e danze di strumenti musicali tipici approfondimenti scientifici e tanto altro nel paese natale di giovanni ginobili poeta vernacolare folclorista e padre nobile della etnomusicologia moderna nelle marche l'amministrazione comunale sta da tempo lavorando ad un museo proprio sulla figura dei ginobili tutte queste opere rischiavano di andare perdute nel tempo e quindi è un patrimonio che dobbiamo assolutamente custodire tramandare ai nostri ragazzi ai nostri alle future generazioni perché comunque ecco per guardare al futuro bisogna ecco sapere essere consapevoli di quello che eravamo e di quello che siamo queste le tradizioni queste le iniziative save the date verso il desio volge l'estate è l'occasione per approfittare fare qualche bella serata come quella di ieri che ci ha regalato polverigi ecco qua eva capomagi marco santini mirco e leonori abbiamo anche simo e dona rosa sorice straordinaria con la sua incredibile voce il sindaco di polverigi il presidente di in teatro con la meravigliosa lucia santini questi solo alcuni ingredienti di una serata che ha chiuso caffè teatro le immagini le interviste realizzate con l'amico nico lipera prossimamente su etv canale 12 e partner di questo progetto fermo e il fermano aiuti alla moda fate presto dopo il summit al ministero industriali e artigiani per un settore in grande difficoltà vanno in pressing per avere risposte concrete a tempo breve a porto san giorgio intanto sollecito al comune segnaletica due step per i lavori e poi c'è l'ok ai nuovi fondi per la ricostruzione rinascono i borghi condanna invece in francia per maltrattamenti no alla scarcerazione per il ragazzo che ha passato anche del tempo nella zona del fermano la vicenda del delitto di della valle d'aosta porto santelpidio un gestore unico per gli asili nido per un servizio migliore infine la truffa purtroppo da monte giorgio del falso incidente anziana sborsa 5000 euro signi come funziona mi aveva chiesto poco fa un amico sui social come funziona ahimè lo sappiamo signora suo figlio suo nipote a volte cambia ma il succo è lo stesso ha avuto un incidente servono subito soldi per tirarlo fuori di galera c'è un processo in corso deve cacciare soldi e purtroppo una nonna una zia in fibrillazione per un figlio un nipote in difficoltà tendono appunto a cacciare anche perché cacciare soldi anche perché in questo caso c'era la truffa peggiorata dal fatto che i truffatori fossero vestiti da poliziotti altre notizie dal maceratese ancora la cronaca tra l'altro in primo piano la galleria prende forma arriveremo a questo ma prima c'è il bazar della droga con due arresti sequestrati più di due chili e mezzo tra hashish eroina e cocaina appuntamento con la cronaca ahimè ancora una volta dalla zona di civita nova la galleria intanto prende forma avanti tutta con gli scavi per il sottopasso a colle vario l'altezza è già di 5 metri un'opera infrastrutturale attesissima anche qui vediamo se riesco perché ci tengo a mostrarvi pure la foto eccola qua sì ce l'ho fatta al volo sottopasso di via roma avanti tutta con gli scavi ora si vede la galleria è stato tolto una volta per tutte il passaggio a livello del treno altre notizie dalla zona del maceratese eccola ecco dove è successo questo episodio increscioso dopo la lite in strada spara a una bambina con il fucile da soft air inseguiva una donna le spara colpisce una bambina peggio di questa dinamica non lo so ditemi voi ma va chi c'è elisabetta torno da voi e c'è elisabetta sabatini buongiorno maurizio stanchi ma felici e direi anche perché elisabetta che ha partecipato al contest magna saracca di caffè teatro ha vinto ha vinto partecipando con il suo straordinario sorriso chissà se riesco a beccarla questa è diego fazzi questa è anna maria magrini rosa sorici ancora eccola qua elisabetta con la sua prorrompente comicità diciamo così è stata anche ospite nei nostri studi premio meritatissimo ancora notizie giusto per completare il quadro legato alle news locali dal maceratese ancora movida violenta siamo a civita nova ha coltellato una giovane lite con un gruppo di nordafricani parapiglia scoppiato per il furto di una collanina andiamo ora in provincia di pesaro poi passeremo alle edizioni del carlino dopo le edizioni del corriere waterfront sì ok ma a metà albergatori e commercianti plaudono al restyling di viale trieste ma resta il nodo della ztl cioè della zona traffico limitato facciamo il lungomare ok ma le macchine dopo i parcheggi da levante si alza la protesta degli operatori invece delusi lunedì invece il bando per l'affidamento degli alloggi di palazzo aimonino case oramai pronte e anche questa la possiamo annoverare tra le buone notizie che succederà della stagione estiva che sta volgendo al desio come dico spesso nella zona del pesarese abbiamo citato san benedetto accordo fino al 22 settembre abbiamo citato la zona di ascole civita nova sicuramente fino a metà settembre si potrà andare in sicurezza nelle spiagge con i bay watch e in provincia di pesaro è ancora una situazione sul divenire sul chi va là boom di turisti a proposito dalle spiagge alla montagna boom di turisti su nerone e catria strade da sistemare infine gli autovelox erano sospesi e questo lo avevamo raccontato c'è stato un interregno cambia la legge per il momento fermiamo gli autovelox niente multe eppure e qualche amico di fano ce lo ha confermato adesso fioccano le multe l'iniziativa a fano in contraddizione con la cassazione mascarine sollecita spiegazioni con un'interrogazione ci hanno scritto anche io che lo penso che devo fare devo pagare lì il dubbio c'è è sempre è sempre una sola sia pagare sia non pagare stasera seratona a camerano in piazza del comune con il grande federico 40 un saluto a tutti interspettatori grazie stiamo raccontando tante iniziative ci fa piacere annoverare anche questa un'altra immagine a cui viene dal pubblico e racconta però quello che dicevamo poc'anzi questa è polverigi questa questa è il sagrato della chiesa che dà su piazza umberto primo piero massimo macchini che saluta con accanto appunto elisabetta sabatini fresca vincitrice con tanto di targa in mano del contest organizzato nell'ambito di caffè teatro buongiorno da chantal da montevecchio vi aspettiamo numerosi mi fa piacere che in tanti accogliate il mio invito di segnalare iniziative perché siamo qui per goderci la vita anche oltre che per ascoltare informazione e allora palio della rocca 6 7 8 e 16 settembre 38esima edizione succederà a serra santabondio il palio della rocca con la corsa delle ocche che è un momento divertentissimo vedete anche qualche immagine in costumi d'epoca il palio della rocca da non perdere grazie alle amiche agli amici di serra santabondio chiudiamo rapido rapido con le foto news di tutti i giornali del carlino poi sfoglieremo e pagina per pagina miss italia a numana in 200 per un sogno al via le pre finali nazionali sono chiaramente tutte bellissime si cercherà la più bella e anche però la più intrigante la più brava la più affascinante non è solo il canone della bellezza che cerca la carmes miss italia per la provincia invece di macerata dal lanconetano maceratese scacco ai pusher eroina cocaina e hashish due arresti a civita nova mi hanno scritto anche da civita nova parli solo in negativo di civita nova questa è una rassegna stampa ahimè è vero effettivamente è vero che ultimamente in zona civita nova siano capitati diversi episodi di cronaca e in negativo però quando ci fossero notizie buone positive in primo piano sui giornali assolutamente racconterò civita nova anche da questo punto di vista vi assicuro che per me leggere brutte notizie non è né piacevole né gustoso anzi ho più volte detto che civita nova la adoro ci vado spesso e lì la mia famiglia fa le mie dolci signorine oltre che la dolce signora fanno spesso shopping e io e gigetto stiamo lì aspettiamo e parliamo di di calcio o di calcio di questi due argomenti torniamo ai giornali va che è meglio zona comunque le critiche vanno sempre bene quando siano costruttive zona ascoli fermo la fotonews tocca il cuore lasciatemi stare con mio figlio ascoli dipendente ast adotta un bimbo disabile ma le viene revocato lo smart working e questa è davvero una beffa chiudiamo con il pesarese la biosfera che riprova a stupire presentato lo spettacolo multimediale in piazza ora ancora più ricco nell'ambito di pesaro capitale italiana della cultura mi fermo grazie per la cortesa attenzione state con noi se avete piacere parco zoo falconara 60.000 metri quadrati di natura svago e istruzione ricerca e conservazione delle specie animali percorsi didattici e lezioni dal vivo per le scuole aree picnic parco zoo falconara animali di tutto il mondo per gente di tutte le specie via castello di barca